Di fronte all'escalation di violenza in Medio Oriente, Papa Francesco ribadisce che la pace si costruisce sulla giustizia. Non esiste pace che non sia giusta. L'appello di mercoledì scorso all'udienza generale è stato rilanciato dal cardinale segretario di Stato Pietro Parolin. È giusto, fa sapere, che gli ostaggi vengano riconsegnati subito, anche quelli che Hamas detiene dagli scorsi conflitti. È giusto che nella legittima difesa Israele non metta in pericolo i civili palestinesi che vivono a Gaza. È giusto, indispensabile, direi, che in questo conflitto, come in ogni altro, il diritto umanitario sia pienamente rispettato. L'attacco terroristico compiuto da Hamas sabato scorso contro migliaia di israeliani è disumano. Siamo in ansia per gli uomini, le donne, i bambini e gli anziani tenuti in ostaggio a Gaza. E la liberazione degli ostaggi e la protezione della vita degli innocenti a Gaza sono ora il cuore del problema. È diritto di chi è attaccato difendersi, ma anche la legittima difesa deve rispettare il parametro della proporzionalità. La Santa Sede, da parte sua, come sempre, è pronta a qualsiasi mediazione. La presidenza della CEI ha deciso di promuovere una giornata nazionale di digiuno, preghiera e d'astinenza per la pace e la riconciliazione. Si svolgerà martedì prossimo, 17 ottobre, in comunione con i cristiani di Terra Santa, secondo le indicazioni del Cardinale Pier Battista Pizzaballa, patriarca di Gerusalemme dei Latini, che a nome di tutti gli ordinari ha chiesto alle comunità locali di incontrarsi nella preghiera corale per consegnare a Dio Padre la nostra sete di pace, di giustizia e di riconciliazione. Nel frattempo, domani, domenica 15 ottobre, in tutte le celebrazioni eucaristiche, potrà essere adottata questa intenzione di preghiera. Padre misericordioso e forte, tu non sei un Dio di disordine, ma di pace. Spegni nella Terra Santa l'odio, la violenza e la guerra, perché riferiscano l'amore, la concordia e la pace.